Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono willy j ed oggi siamo qua ragazzi Ritornati su GTA 5 online con dei deathmatch folli ragazzi E oggi siamo in questo deathmatch dove dobbiamo andare ad uccidere della gente Era solamente un deathmatch 2 contro 2 Già mi hanno ucciso ragazzi E comunque ecco qua perfetto ragazzi Cioè cadiamo dal cielo veramente bei spawn E qua niente dobbiamo uccidere i giocatori Vabbè in genere quello che si fa in ogni deathmatch Ma qua abbiamo questa specie di base navale ragazzi non lo so Almeno nella descrizione dell'attività c'era scritto base navale E questa sembra una base navale Cioè dovrebbe essere una base navale ma sembra un ammasso di container Intanto noi continuiamo ad esplodere come se non ci fossero domani Perché loro hanno gli elicotteri ragazzi E questo è un casino Uccidiamo all'elicottero ragazzi Uccidiamo all'elicottero Vai ucciso Ucciso l'elicottero Si è schiandato sull'unico autobus che c'era nel mare Perfetto Allora ragazzi abbiamo ucciso l'unico aereo penso Non penso ce ne siano altri E insomma qua vediamo una barca a vela A caso ragazzi io non ci capisco niente C'è un deathmatch totalmente ingasinato Vediamo un po' di far esplodere quelle robe là Boom Boom Ok Non è morto nessuno Benissimo ma dove sono i nemici? Ragazzi eccone uno Eccone uno E si avvicina magari lo pillo Bam Niente l'ho mancato di brutto Bam Bam E' morto ragazzi Ci ha pensato il mio amico di squadra Comunque un deathmatch che non ci sto capendo una mazza Sinceramente Però va bene va bene ragazzi va bene Sembra carino Per ora mi sta sembrando carino Però l'unico problema è che non so dove cazzo sono i nemici ragazzi Cioè Ragazzi ne ho visto Eccolo la Guardatelo L'ho visto sulla mappa Vai sparalo Ok è morto ragazzi È morto Benissimo L'abbiamo ucciso Là ce n'è uno Bam Niente ragazzi L'ho mancato Vediamo un po' se li riesco ad uccidere Vai Madonna mia ragazzi Mi ha fatto l'headshot E vabbè mi ha fatto l'headshot Ma fa niente Tanto noi spawniamo qua nella nostra bellissima Base navale O almeno quello che dovrebbe essere Ecco qua Esplode tutto ragazzi Io non so come cazzo è possibile Che loro hanno i lanciarazzi Qua intanto cadiamo dal cielo Ora adesso moriremo sicuramente Invece no ragazzi Non siamo morti Fantastico Vediamo un po' di andare sulla isola nemica ragazzi Così almeno là ci sono i lanciarazzi e i bazooka Vediamo Ragazzi siamo ormai vicinissimi alla riva avversaria Diciamo alla riva nemica E già mi hanno visto E già mi hanno visto E già mi hanno visto Quindi non è una buona cosa Devo eliminarlo velocemente Devo essere veloce Ok eliminato Merda Pochissimo e mi atterrava in testa ragazzi Merda E mi uccidono di nuovo Io non lo so ragazzi Io non lo so Cioè mi continuano ad uccidere Come se non ci fossero domani Qua si cade in mare Veramente Un death match molto strano ragazzi Ma molto strano Cioè Qua c'è una barca Che è totalmente annegata Cioè Guardate L'acqua gli entra proprio dentro No no ragazzi È assurdo È assurdo È assurdo Non riesco più a salire Vaffanculo Qua c'è un tsunami Benissimo Ma noi saliamo Indando loro Sparano con il lanciarazzi Merda Mi hanno cecchinato ragazzi Mi hanno cecchinato Mi cecchinano Mi cecchinano E questo potrebbe essere un problema Ragazzi Vediamo 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 Nasconditi qua Prendi questo Ok Allora vediamo un po' dove Eh vaffanculo Vaffanculo Ragazzi È impossibile Comunque io saluto Tutti quelli che stanno giocando con me Io sono spavonato qua Nella riva avversaria Vediamo un po' Di approfittarne Vai vai Devasta lì Vai Non ricaricare Ma porca la vacca ragazzi Devo sempre ricaricare Devo sempre ricaricare Ogni cosa buona che mi capita Devo ricaricare Io non lo so se è vero o no Ecco qua Porca la buttana Continuiamo a morire A mai finire ragazzi Perché qua È assurdo C'è ragazzi Spawni e ti ammazzano Ti succede una cosa buona E il tuo mino ricarica Non ho culo io Vediamo Vediamo di ucciderli È assurdo Ucciso L'ho ucciso ragazzi Ho fermato la sua serie di uccisioni Ho avuto la mia vendetta Intanto cadiamo dal cielo Senza Boh Senza limiti Cadiamo dal cielo Dai Tanto È normale Dai Vediamo un po' Se riusciremo a concludere In prima posizione Anche che ne dubito ragazzi Ne dubito Veramente Tantissimo E siamo sulla terra rivale Ragazzi Merda Ho sparato prima Vediamo un po' Se adesso il mio mino Deve ricaricare come sempre Oppure no Allora Vediamo di uccidere a quello là Mori È morto No Il nemico Ok Li ho atterrati ragazzi Li ho atterrati Abbiamo ancora Tantissime possibilità Di concludere In prima posizione Ragazzi Allora Vediamo un po' Di uccidere a quello là Non muore ragazzi Vedete che spiga che ho Cioè chi spara e non muore È assurdo Intanto Ok L'abbiamo ucciso Vediamo di uccidere all'altro Dov'è Dov'è raga Merda Ho sbagliato Ucciso No Bastardo Mi è apparso dietro Mi è apparso Mi è spawnato dietro E qua dove siamo Dove diavolo Aspettate No 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 ragazzi Che figata Posso starmene qui Gamberato Di uccidere i nemici Che spettacolo Allora Uccidiamo a tutti Allora Vai L'abbiamo ucciso Ragazzi Incredibile Vai che la vingiamo Vai che la vingiamo Me la sto giocando Da camber Però ragazzi Non mi interessa Che me la gioco da camber Ma dobbiamo vingere Merda ragazzi E cioè È difficile È difficile ragazzi Non sembra Cioè Sembra facile Ma È molto Ma molto difficile Sparare dall'alto L'abbiamo Killato ragazzi 15 a 17 Possiamo ancora Vingere ragazzi Possiamo ancora Vingere Non lo so Se è vero Ma possiamo Vingere Se lo riesco A killare Vediamo Dai Dai Veloce Fermati Vai Vai Uccidilo Beccalo Distruggilo Vai Vai Spara Più precisione Porca vacca Più precisione Niente Niente ragazzi Niente Il mio amico La di squadra Era Ringoglionito Non mi ha aiutato Per niente Comunque Abbiamo perso Questo deathmatch Veramente Un deathmatch Abbastanza bello Ragazzi La fine Ce la siamo giocato In botta camber Ma abbiamo provato Abbiamo provato A vingere Ragazzi E comunque Ragazzi Che dirvi Io spero che Questo video Vi sia piaciuto Se il video Vi è piaciuto Lasciate un bel Mi piace Passate dalla Pagina di facebook La trovate in descrizione Iscrivetevi Al canale Se non è ancora fatto E noi ci vediamo Ad un prossimo video Bella ragazzi